...delle scuole a prima. Ma chi è? Signora Marta, avete visto che è qui? È venuto a prenderla uno dei vostri, poco fa. Va bene. Chiara! Gabi! Gab! Già! Carabiniere! Che ha fatto una grandissima cazzata o no? Ha fatto una telefonata che non doveva fare Basta! Ti prego! Che pensavi che non c'avamo amici pure là? Perché fai tanto udeffigile con noi, carabinieri? Lo sai che non conviene fare udeffigile? Oh no! Vekengo, portami alla ragazzina forza Sto mangiando Che stai cazzo che stai mangiando o no? Ecco ora dobbiamo aspettare lo vekengo che finisce di mangiare, certo vai! Questo ti servirà una lezione, forza portami acqua Guarda! Portamelo a casa! La prossima volta a bambino Si fa male, capito? Si fa male! Si accetta tu! Eh? Eh? Bravo, garabinieri, va? Papa! Papa! No, 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 no.